Una camminata nelle piazzette e nei borghi più belli da scoprire attraverso una gustosa cena itinerante con un ricco menù dall'antipasto al dolce bagnato da migliori vini locali. Sono stati quasi mille tra adulti e bambini partecipanti alla settima edizione della Val di Sgrana, camminata inogastronomica alla scoperta della natura e dei sapori locali con un fine benefico. Con partenza da Val di Brana i partecipanti hanno percorso due chilometri e mezzo. Nella prima tappa sono stati serviti gli antipasti, un piatto ricco di affettate accompagnato da buon vino. Rimessi in cammino dopo un'impegnativa salita hanno raggiunto Fiano dove ad attendere i camminatori i gustosi primi e un panorama mozzafiato. La camminata ha continuato in discesa per raggiungere il circolo di Fiano, qui ad attendere i camminatori i secondi. Infine il ritorno in Val di Brana dove sono stati serviti tantissimi dolci. L'iniziativa è stata organizzata da Proloco di Val di Brana con la partecipazione di numerosi volontari che hanno reso possibile l'iniziativa. La seconda tappa della Val di Sgrana dopo gli antipasti ci sono primi, che cosa state offrendo? Primi abbiamo il farro e la minestra di pane. Da bere cosa date? Vino rosso e un pochino d'acqua, non troppa. L'ideatore della manifestazione, com'è nata questa voglia di fare questa camminata enogastronomica? Nella posizione dei nostri paesini vedevo bene questo tipo di percorso con la possibilità di fare questa esperienza enogastronomica. Il passare degli anni ha preso più campo con soddisfazione perché riusciamo a dare in beneficenza parecchi soldini che ce n'è bisogno. Questa è la terza tappa, stasera che cosa offrirete di secondo? Delle salcicce all'uccelletto con fagioli e del rigatino porchettato abbinato a un buon chianti. L'ultima tappa con tutti questi dolci, che cosa offrite? Offriamo crostate di tutti i tipi, dal more, albicocca, fichi. Poi ci sono pan di spagna al limone, margherita, al cioccolato, biscotti, cantucci di prato. Insomma c'è diverse varietà di biscotti, tutti buoni e tutti fatti da queste donne amabili, tutti tracciabili con ingredienti, tutti certificati.